Ma guarda, sicuramente un po' di serenità, perché comunque ci sta a partire così una società nuova il primo anno che fa la Serie B e giocatori anche che non hanno mai fatto la Serie B, però hanno tanta qualità, quindi possono farla tranquillamente. Io cerco di dare una mano sia alla squadra, al mister e sono pronto e basta. Ma guarda, ho giocato sia in centrocampo a tre, sia da mediano che da mezzala, quindi dove il mister vuole posso dare una mano alla squadra, quindi mi sento pronto in tutti e due posti, quindi va bene così. Ma per quanto riguarda la partita, sarà una partita tosta, perché lo sappiamo, il Palermo vuole vincere il campionato e ha una rosa veramente importante. Noi faremo il massimo per portare qualche punto fuori dal Barbera, che è la cosa più importante per noi, per arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza. Per quanto riguarda i palermitani, guarda, io sono di Palermo, quindi sono di parte. Sarà una bella atmosfera, sicuramente, e per me ancora di più, perché sono cresciuto lì e fino a 7-8 anni fa, anche 10 anni fa, facevo racchetta palle. Quindi per me giocare contro il Palermo è di nuovo una bella sensazione. Ma guarda, per fortuna conosco tanti giocatori che giocano qui adesso, tra Lamantia, Ferrarini, Minelli e Cepitelli. Ho giocato con un po' di ragazzi qui dentro e mi hanno detto che, prima di tutto, il gruppo è fantastico ed è la cosa più importante per arrivare al nostro obiettivo. E poi che è una società che vuole crescere tanto, però dobbiamo passare prima dal campo che dobbiamo portare alla salvezza. Ma, sono sincero, non sono mai venuto da queste parti. È una bella avventura, perché comunque vai a visitare un posto nuovo e non so dove ancora devo andare a vivere, quindi vedremo se ne occuperà mia moglie, che comunque fa tutto lei per quanto riguarda la casa, quindi va bene così, dai. La prima volta non si scorda mai. Forza Leoni del Garda! Grazie!